Sono passati 40 anni dalla morte del famoso Paron, Neoreo Rocco. In realtà la famiglia si chiamava Roc, ma per poter lavorare in Italia il cognome venne appunto italianizzato. Voleva chiamarsi Rocchi, ma poi per un errore all'anagrafe diventò Rocco. Ecco Rocco si dice sia l'inventore del catenaccio, cioè la difesa con un uomo in più, tutti pronti a difendere per poi fare il contropiede. Oggi parlare di catenaccio nel mondo del calcio totale, del calcio spettacolo, dei diritti tv, diventa difficile perché è come guardare in un museo un dinosauro. Però l'Italia e alcune scuole italiane con il famoso catenaccio hanno vinto molto. Ecco Rocco, cosa rimane di Rocco, dell'insegnamento e del calcio di Rocco? Beh certamente la cosa che rimane di più sono i valori, i valori forti e anche un certo modo di parlare schiettamente. Quando lui era al Padova gli dicevano vinca il migliore e lui diceva speriamo di no. Chi lo direbbe adesso? Oppure ecco il rispetto degli avversari. Rocco col suo modo di parlare triestino che a volte non si capiva, era però un personaggio che rispettava l'avversario. E vedendo quello che accade oggi in campo e anche fuori, beh io credo che un insegnamento come quello di Nereo Rocco noi dovremmo forse tenerlo più in considerazione. Grazie. Grazie.